musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo videocontest io sono xyuder e io la pami allora ragazzi che ve l'avevamo detto ieri sera ieri sono riusciti questi ragazzi a raggiungere la soglia dei 64.500 e quindi ragazzi come promesso videocontest per vincere un bel buono da 10 euro che vi spendete come preferite degli come se lo spendono con ricarica pay safe portafoglio portafoglio playstation ricarica pay safe xbox one nintendo switch o ricarica semplicemente telefonica vi ricordiamo prima di dirvi la parola segreta che il contest il doppio contest per l'estrazione dei pass battaglia solo per chi non ha il pass battaglia verrà fatto domani mattina sabato mattina ragazzi praticamente a metà live ci fermiamo ed estraiamo quindi ragazzi mi raccomando un commento solo siate presenti alle 22 in live e la frase da scrivere è la seguente vogliamo il pan di zucchero vogliamo il pan di zucchero noi vi ringraziamo tantissimo per avere guardato questo video e ci vediamo in live ciao 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 ciao